Ciao. Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Cambiamenti all'orizzonte a Mediaset. Barbara D'Urso e le novità della programmazione stanno suscitando grande curiosità e interesse I vertici delle reti del Biscione stanno prendendo decisioni importanti per la sua programmazione futura La società sta tagliando e sostituendo alcune figure, creando un impatto significativo I broadcaster stanno valutando la situazione attuale mentre un altro anno televisivo volge al termine La programmazione è più intensa tra settembre e maggio E l'organizzazione del palinsesto, specialmente per il periodo estivo, è cruciale Pier Silvio Berlusconi e il suo team stanno prendendo decisioni importanti e complesse Secondo le voci, Pier Silvio potrebbe sostituire Barbara D'Urso per l'estate Simona Branchetti ha sostituito D'Urso durante il periodo natalizio con grande successo Potrebbe esserci un cambio di direzione a Mediaset, coinvolgendo D'Urso nella guida del programma nei mesi estivi Mediaset La decisione di Pier Silvio Berlusconi Mediaset sta facendo manovre per favorire l'audience del pomeriggio di Canale 5 Terra Amara La telenovela turca ha registrato picchi del 23% in share Il palinsesto della SOP è stato modificato per potenziare la trasmissione di Barbara D'Urso Grandi manovre sono in corso a Mediaset per il ritorno della trasmissione di Barbara D'Urso Terra Amara non sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 a partire dal 10 settembre 2023 La nuova stagione debutterà il 24 settembre Terra Amara continuerà ad essere trasmessa dal lunedì al venerdì alle 14 Pomeriggio 5 invece anticiperà il suo ritorno in onda il 4 settembre alle 17 Con al timone Mirta Merlène 0 al posto di Barbara D'Urso I cambiamenti a Mediaset rappresentano una fase entusiasmante per l'azienda e il pubblico Le decisioni prese ora avranno un impatto significativo sulla programmazione futura E gli occhi sono puntati su figure chiave come Barbara D'Urso Solo il tempo dirà come queste mosse influenzeranno la rete e la risposta da parte del pubblico da casa Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video Premi il pulsante mi piace e commenta Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale